Sono tornati a manifestare i lavoratori dell'ex call center QE di Paternò la manifestazione questa mattina a Catania, l'appello alle committenti, non ci dimenticate. La vita dell'Ipeb appesa ad un filo, il commissario straordinario dell'ente Giovanni Riggio ha scritto al sindaco Mauro Mangano disattesi gli impegni. La CGL commenta i dati Istat sulla disoccupazione in Sicilia, in un anno sono andati in fumo 45.000 posti di lavoro. Domani il Movimento 5 Stelle scioglierà le riserve sul proprio candidato sindaco, mentre domenica si terrà l'incontro di città con Nino Naso che ufficializza la sua candidatura a sindaco. Salgano a 5 i candidati alle elezioni amministrative. Novità sull'inchiesta per la morte nel carcere di Siracusa del detenuto adranita Alfredo Liotta nel luglio del 2012. Sono stati rinviati a giudizio il direttore sanitario e sette medici del carcere, nonché il perito nominato dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Sono accusati di omicidio colposo. Nuova operazione antirandagismo ad Adrano disposta dall'amministrazione comunale. Catturati una decina di randaggi in diverse zone della città, dopo che verranno microcippati e castrati saranno rimessi sul territorio. Domenica 25esima giornata del campionato di promozione, la Real Città di Paternoa attende la visita del Vittoria. Ancora problemi di formazione per il tecnico La Rosa. Buonasera da Ciak News, apriamo il nostro telegiornale questa sera con la cronaca tornando a parlare della questione che vede da vicino. Gli ex lavoratori del call center QE sono tornati a manifestare questa mattina a Catania l'appello alle committenti. Non ci dimenticate, il servizio. Tornano in strada gli ex lavoratori della QE di Paternoa al grido di giustizia, giustizia, rivogliamo il nostro lavoro. Ed armati di magliette con su scritto, non ci avrete mai come volete voi, ex lavoratori QE, Transcom, IMS, Enel, Wind e Sky. Oltre un centinaio di ex dipendenti del call center di Contrada Tre Fontane hanno manifestato per far sentire la loro voce. Al loro fianco i sindacati di CGL e CISL, ma anche alcuni esponenti politici. Tra loro il deputato nazionale della PD, Luisa Albanella, da sempre vicino alla vertenza dei dipendenti. Ed ancora l'assessore al welfare del comune di Catania, Angelo Villarilla, sindaco di Paternoa, Mauro Mangano. Con forza gli ex dipendenti hanno evidenziato di volere il loro lavoro, rivolgendosi direttamente alle ex committenti di Paternoa, IMS, Enel, Wind, Sky e Transcom. Perché anche dalla loro sensibilità, dalle loro scelte, dal loro impegno a non voltarsi dall'altra parte, può dipendere la ripartenza. Perché, come evidenzia l'ex dipendente Valentina Borzi, noi abbiamo una professionalità che non va dimenticata. Per loro questa mattina un lungo corteo e poi la manifestazione davanti alla sede della prefettura di Catania in Vietnea. Per l'ennesima volta i lavoratori sono qui a rivendicare il loro diritto al lavoro, ha evidenziato la deputata nazionale, Luisa Albanella, a sensibilizzare le committenti. E sulla manifestazione di oggi a Catania, le sigle sindacali di SLCCGL e Fistel Cisla di Catania hanno diffuso una nota dove si legge. I manifestanti hanno protestato per sollecitare le committenti nazionali, IMS, Enel, Transcom, Sky e Wind, a partecipare al tavolo regionale aperto e sollecitato dal Ministero allo sviluppo economico. Si tratta di un gruppo di lavoro fortemente voluto da sindacato ed ex dipendenti, dove è prevista la presenza di un imprenditore locale disponibile ad avviare un progetto di lavoro potenzialmente efficace. Il riferimento dei sindacati è a Franza di Bella, imprenditore paternese, che sta lavorando da mesi nel tentativo di riuscire a far partire una nuova attività a fonte di reddito e lavoro fondamentali per il territorio. Le istituzioni sono fondamentali perché sono l'anello di congiunzione, la loro mediazione diventa importante. Ma il tavolo alla regione occorre subito, Palermo deve rispondere, non far calare il silenzio che dal capoluogo regna da tempo. Un solo incontro si è tenuto sull'argomento settimane fa, poi più nulla. Rivolgiamo il nostro lavoro! Rivolgiamo il nostro lavoro! E da un dramma occupazionale ad un altro, questa volta ci occupiamo dei lavoratori dell'IPAB. Salvatore Bellia, la vita dell'istituto ormai appesa ad un filo, il commissario straordinario dell'ente Giovanni Riggio ha scritto al sindaco Mauro Mangano. Sono stati disabbesi gli impegni. Sentiamo i particolari. Restano tesi gli animi alla casa d'ospitalità Salvatore Bellia. Il commissario straordinario Giovanni Riggio ha preso carte e penne e ha scritto al sindaco Mauro Mangano una lunga lettera per evidenziare le tante criticità che restano nonostante la delibera di giunta che ha stanziato 25.000 euro sui 33.600 richiesti. A questo si aggiunge il fatto che il Comune non ha ancora inviato le unità professionali che si attendevano. Ed è lo stesso Riggio a ricordarlo al primo cittadino. A tutt'oggi non risultano ancora individuate ed incaricate le risorse umane, scrive Riggio, dipendenti del Comune che dovrebbero assicurare lo svolgimento di funzioni essenziali ed il mantenimento degli standard organizzativi. Il riferimento del commissario Riggio è al segretario direttore, il collaboratore amministrativo, l'assistente sociale, il manutentore e l'assistenza legale. Figure, scrive ancora il commissario Riggio, la cui presenza presso l'IPAB è fondamentale in quanto rappresentano la naturale interfaccia per la cura di aspetti organizzativi e per la risoluzione di problemi e criticità. Riggio poi si sofferma sulle somme stanziate dall'ente che, essendo inferiori rispetto a quanto concordato, non permettono di coprire le spese del personale per i mesi di marzo ed aprile, ma solo per il mese corrente. Il rischio, dunque, è che l'IPAB possa concretamente smettere la sua attività e funzione per il territorio ancora prima del pronunciamento del TAR di Catania rispetto al decreto di estinzione dell'ente voluto dal presidente della regione Rosario Crocetta, pronunciamento fissato dopo che il Tribunale amministrativo avrà esaminato nel merito la vicenda con la prima udienza per il prossimo mese di ottobre. Intanto, i sindacati hanno indetto lo stato d'agitazione ed hanno chiesto l'intervento della Prefettura sull'argomento, non escluso lo sciopero, fino ad oggi sempre evitato. Il CGA ha annullato la sentenza del TAR sul bando biologico 2012. Adesso potranno ripartire i pagamenti dei premi agroambientali per 8.000 aziende siciliane che sono rimaste con il fiato sospeso per più di un anno. Un grande successo che avvalora l'impegno portato avanti dall'assessorato regionale agricoltura a difesa del comparto agrumicolo siciliano. Lo dicono in una nota congiunto l'assessore regionale all'agricoltura, Antonello Cracolici, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Gaetano Cimò. E torniamo a parlare di lavoro, o meglio, del lavoro che non c'è. La CGL infatti commenta i dati Istat sulla disoccupazione in Sicilia. In un anno sono andati in fumo 45.000 posti di lavoro. In Sicilia sono andati in fumo in un anno 45.000 posti di lavoro. Il tasso di occupazione segna 17,7 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale, essendo passato dal 41,1% al 39,7%, mentre il tasso di disoccupazione è cresciuto di due punti, passando dal 20,5% al 22,6%. Sono i dati della rilevazione Istat relativa al quarto trimestre 2016 nel raffronto con lo stesso periodo del 2015. Li diffonde la CGL Sicilia che con il segretario generale Michele Pagliaro definisce questi numeri allarmanti, aggiungendo che vengono clamorosamente smentite le voci che parlano di ripresa e invece tragicamente confermate l'inefficacia dei provvedimenti sul lavoro del Governo nazionale e la mancanza di azione politica del Governo regionale finalizzata alla crescita. L'Istat osserva la CGL, conferma che prosegue inesaurabilmente la desertificazione industriale. Dei posti di lavoro perduti in 12 mesi, oltre 7.000 riguardano il manifatturiero e 4.000 le costruzioni che nel quarto trimestre del 2016 contano appena 82.000 occupati. Ma in caduta libera sono anche i servizi perdendo la loro caratteristica di rifugio occupazionale, 33.000 gli occupati in meno, di cui 17.000 negli alberghi e nella ristorazione. Il tasso di disoccupazione giovanile inoltre è passato dal 55,9% al 57,2%. Di fronte a una situazione così drammatica, afferma Pagliaro, che vede diminuire il lavoro e aumentare la precarietà e il disagio sociale, l'inversione di tendenza deve essere radicale con politiche di crescita adeguate, sostenute da investimenti e con il ripristino dei diritti sul lavoro per dare qualità all'occupazione e alla vita delle persone. Per questo, la battaglia della CGL contro gli strumenti di precariato come i voucher, conclude, continua assieme alla battaglia per lo sviluppo. E adesso la politica con le elezioni amministrative a Paternò sempre più vicine. Domani il Movimento 5 Stelle sceglierà le riserve sul proprio candidato sindaco, mentre domenica si terrà l'incontro di città con Nino Naso che ufficializza la sua candidatura. Salgono così a 5 i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative. Doppia presentazione di candidature a sindaco in questo fine settimana. Domani pomeriggio alle 17 al Piccolo Teatro sarà la volta del Movimento 5 Stelle che presenterà il candidato sindaco e la lista al Consiglio Comunale. Il Movimento, come già avvenuto alle elezioni amministrative in altre città, si presenterà con una sola lista collegata al Movimento stesso. Bocche cucite sul nome del candidato sindaco pentastellato, anche se più volte da ambienti esterni ai 5 Stelle, è stato fatto il nome non confermato dell'attivista Salvo Ladelfa. Nella stessa occasione i 5 Stelle presenteranno anche i propri candidati al Consiglio Comunale. Attesa domenica mattina alle 10 per l'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Nino Naso. Naso incontrerà la città nella sala conferenze della Biblioteca Comunale per annunciare il proprio progetto politico. Incontro che sarà ripreso dalla nostra emittente e che sarà possibile seguire in diretta su Facebook sulla pagina Ciac Tele Sud. Numerose liste civiche provenienti dalla città e soprattutto dalle associazioni. Come preannunciato in alcune trasmissioni televisive, Naso ha scelto di presentarsi alle elezioni amministrative senza partiti politici, proponendosi come candidato di rottura, sia per le segreterie di centrodestra che per quelle di centrosinistra, puntando dritto al voto d'opinione. Con la doppia presentazione, prevista sabato e domenica, la griglia di partenza per quanto riguarda i candidati sindaco può dirsi conclusa a meno di novità dell'ultimo minuto. In ogni caso, anche nuove candidature non dovrebbero spostare di molto gli equilibri. La competizione elettorale, dunque, dovrebbe tradursi in una corsa a 5 completata dall'ex deputato Nino Lombardo, dal giornalista Entoni Di Stefano e dall'attuale sindaco Mauro Mangano. Intanto, la regione siciliana non ha ancora ufficializzato la data delle elezioni amministrative, ma ogni giorno che passa si fa sempre più concreta la possibilità di un voto piuttosto tardivo a giugno, con date più probabili il 4 o addirittura l'11. E prima della pubblicità, un appuntamento sempre per domani. Sabato pomeriggio alle 18, nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, l'assemblea dei soci del gruppo donatori volontari di sangue si riunirà appunto per un incontro. Durante la serata saranno premiati alcuni soci per il numero di donazioni raggiunte. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. La nostra informazione riprende subito dopo. Idea Bricco Paternò vi annuncia che continua la doppia operazione Outlet, che vi permette di acquistare i prodotti che avete sempre desiderato a prezzi sotto costo. Marzo ed aprile, nuova doppia operazione Outlet. Outlet della cucina. Vasto assortimento di cucine classiche e moderne, complete di elettrodomestici di ultima generazione, a prezzi di fabbrica. Cucina moderna, metri 3,60, completa di frigo maxi, forno, piano di cottura da 75 e lavastoviglie, a soli 1.250 euro. Cucina classica, antalegno, colore tortora, metri 3,15, completa di frigo, forno, piano cottura, a soli 1.450 euro. Cucina moderna, metri 3,60, con pensili vasistas, chiusure ammortizzate, completa di frigo maxi, piano cottura da 75, lavastoviglie e forno, a soli 1.299 euro. Outlet del bagno. Composizione arte povera, due ante con lavabo in ceramica, complete di specchio e illuminazione, a soli 119 euro. Composizione moderna laccata a vari colori, due ante con porta salviette laterale, specchio ed illuminazione, a soli 99 euro. Inoltre ricordiamo i nostri clienti che nello showroom Spazio Casa al primo piano continua la promozione sui divani. Idea Bricco Paternò, via Emanuele Bellia 265 Paternò, seguici su Facebook. E rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale, andiamo ad Adrano, novità sull'inchiesta per la morte nel carcere di Siracusa del detenuto Adranita Alfredo Liotta, morto appunto nel luglio del 2012. Sono stati rinviati a giudizio il direttore sanitario e sette medici del carcere, nonché il perito, nominato dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania. Sono accusati di omicidio colposo perché non avrebbero garantito la giusta assistenza sanitaria. Da oltre quattro anni la moglie di Liotta e l'associazione Antigone chiedevano di fare chiarezza sulla morte in carcere di Alfredo Liotta. Adesso ci sarà un processo. Sentiamo il servizio. Svolta sull'inchiesta riguardante il caso di Alfredo Liotta, il detenuto Adranita, morto a 41 anni, nel luglio del 2012 nel carcere Cavadonna di Siracusa, dove stava scondando una condanna all'ergastolo. Una morte per la quale la moglie di Liotta, Patrizia Savoca, da oltre quattro anni, chiede di fare chiarezza. Una battaglia nella quale è stata sostenuta dall'associazione Antigone che nel 2013 presentò un esposto alla procura di Siracusa per denunciare il fatto che a Liotta non venne mai garantito nessun tipo di assistenza in una struttura sanitaria, nonostante l'evidente deperimento organico. Insomma, secondo i familiari e Antigone, Liotta venne lasciato morire in carcere. Oggi dunque la svolta, dopo che la procura di Siracusa aveva iscritto 10 persone nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo. Ci sarà un processo per stabilire le cause della morte in carcere di Liotta e le eventuali responsabilità. Sono nove gli imputati rinviati a giudizio per la morte del 41enne Adanita, il direttore sanitario e sette medici del carcere, nonché il perito nominato dalla Corte d'Assise ad Appello di Catania. Il caso venne portato a conoscenza del difensore civico di Antigone, l'avvocato Simona Filippi, che su input della moglie acquisì tutte le carte sullo stato del detenuto. Dalle carte emerse, si legge in una nota di Antigone, come il personale medico e infermieristico non avesse saputo individuare e comprendere i sintomi né il decorso clinico di Alfredo Liotta e che tali carenze conoscitive ne avessero determinato il decesso. La scarsa lucidità del paziente avrebbe dovuto allarmare il personale sanitario e a fare considerare diversamente i rifiuti reiterati della terapia e del cibo che invece furono interpretati come rifiuti volontari. Per il direttore sanitario e i medici, l'accusa della Procura di Siracusa è quella di avere cagionato con colpa nelle loro posizioni di garanzia sulla salute dei detenuti il decesso di Liotta, avvenuta a seguito di collasso cardiocircolatorio causato da evento emorragico innestato in una grave condizione anoressica. Per quanto riguarda il perito, invece, l'accusa è quella di non avere correttamente rappresentato alla Corte d'Assise l'appello di Catania la patologia da cui Liotta era affetto e non averne specificato le conseguenze in ordine alla capacità di determinarsi consapevolmente. Una condotta che non avrebbe permesso alla Corte di impartire all'amministrazione penitenziaria le corrette direttive per la gestione del detenuto, compresa anche la possibilità di prevedere una diversa misura della detenzione. L'udienza preliminare si terrà il prossimo 6 aprile e Andigone interverrà come parte offesa insieme alla moglie e al figlio dell'uomo e presenterà la richiesta di costituzione come parte civile. E adesso a Catania, dove la Sidra ha comunicato agli uffici della Comune Catanese che per l'intera giornata di lunedì prossimo l'erogazione idrica sarà sospesa per i programmati interventi annuali di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell'antico canale potabile che approvvigiona parte della città di servizi in numerosi quartieri della città etnea. E ancora ad Adrano, nuova operazione anti-randagismo disposta dall'amministrazione comunale catturati una decina di cani randaggi in diverse zone della città dopo che verranno microcippati e castrati saranno rimessi sul territorio. Intervento massiccio il secondo nel giro di pochi giorni per arginare il fenomeno del randagismo ad Adrano a coordinare l'intervento di cattura dei cani disposto dal sindaco di Adrano Pippo Ferrante l'ufficio Uda del Comune di Adrano assieme a due pattuglie dei vigili urbani, l'associazione AEOP e il soccorso veterinario dell'associazione Nuova Entra nel mirino dell'intervento di oggi pomeriggio iniziato intorno alle 16.30 soprattutto i capi branco e alcuni cani con problemi comportamentali considerati per così dire pericolosi per l'incolumità pubblica ma anche quei cani di indole docile che necessitano di essere microcippati e sterilizzati prima di essere rimessi nel territorio in tutto oggi pomeriggio sono stati presi una decina di cani il primo intervento in contrada a Dagala dove sono stati presi quattro cani in tutto due maschi e due femmine cani caricati nell'ambulanza del soccorso veterinario senza che il soccorritore abbia fatto uso del sedativo tutto si è svolto senza particolari problemi a differenza della cattura di un cane di grossa taglia capobranco di una decina di cani randaggi che stazionavano vicino la caserma dei carabinieri in Viangelo Rognoni e che nei mesi scorsi avevano fatto un'autentica mattanza di gatti nel quartiere del Corso Sicilia per catturare il capobranco il soccorritore specializzato Filippo Grasso ha dovuto usare il sedativo anestetico sparato dalla cerbottana sempre nel popoloso quartiere del Corso Sicilia catturati altri quattro cani che facevano parte del branco mentre altri due randaggi sono stati acchiappati tra via Po e via Bruno Buozzi i cani adesso saranno microcippati registrati all'anagrafe canina le femmine sterilizzate e i maschi castrati quelli d'indole docile saranno rimessi nel territorio quelli invece aggressivi saranno condotti nel canile prossima settimana in programma altri interventi contro il fenomeno del randagismo ed ha parlato in merito alla sezione del Museo Egizio di Torino trasferito a Catania ha parlato proprio il sindaco della città di Torino Chiara Appendino ribadisco che la città è al fianco del Museo Egizio a proposito del dibattito che si è aperto a Torino lo ha detto appunto il sindaco Appendino che la pensa così sullo spostamento a Catania di alcuni reperti per un'esposizione temporanea che ha creato non poche polemiche un patrimonio non solo di Torino e che far conoscere a Catania è una grossa opportunità e adesso il calcio domenica 25esima giornata del campionato di promozione il Real Città di Paternò attende la visita del Vittorio ancora problemi però di formazione per il tecnico La Rosa ci racconta tutto Davide D'Amico Ostacolo vittoria per il Real Città di Paternò che domenica torna a giocare al Falcone Borsellino match pericoloso per i paternesi reduci dall'impegno di Coppa Italia di mercoledì in quel di Calatabiano che ha consegnato il pass per le semifinali a Caluso e compagni il Vittoria settima forza del campionato con 36 punti nutre ancora qualche piccola speranza di agganciare il treno playoff e dunque proverà a giocarsi a viso aperto alla partita inoltre in trasferta i vittoriesi sono molto regolari nel cammino e dunque il match sarà pieno di insidie per la truppa rossa-azzurra il Real Città di Paternò però da adesso deve guardarsi dall'atletico Catani e dunque tornare a fare bottino pieno dopo la sconfitta di settimana scorsa l'Ico di Eubea diventa fondamentale ancora una volta però il tecnico La Rosa deve sfogliare la margherita per capire chi sarà della partita e chi meno sicuri assenti gli squalificati Lauria Balsamo e Lapiana mentre Guarnera Garrasi Nicotre e Darrigo restano in fortissimo dubbio La Rosa rischierà solamente quei giocatori che gli danno maggiori garanzie di tenuta fisica si è entrati infatti nel momento clou della stagione perdere pezzi importanti nel rush finale stagionale non rientra minimamente nei pensieri del tecnico paternese nel match d'andata i rossa-azzurri si imposero per 3-1 calcio d'inizio di Real Città di Paternò vittoria alle 15 dirigerà il match il signor Riccardo Cannata di Collegno assistenti Gianluca Viglianesi di Catania e Silvestro Messina sempre della sezione Etnea e con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera come sempre vi ricordo la prima delle nostre edizioni non dalle ore 20 e poi tutti i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito ciactelesud.com a voi buon proseguimento di serata grazie a tutti